La crisi del Gravina viene acuita dal buon momento del Bitonto. I Burgiani mandano in archivio un'altra domenica senza vincere e lo zero nella casella dei successi resta dopo 15 giornate. La squadra di Loseto, ex di turno, infila il quinto risultato utile consecutivo che li avvicina alla zona play-off o se si preferisce li mette in sicurezza da quella play-out. Nel Gravina il solo Chacon indossa i panni del predicatore nel deserto. Sono sue le prime due occasioni dei giallo-blu, prima del gol che sblocca il risultato e lascia immaginare un pomeriggio diverso per il Gravina. Anche perché il 10 di casa insiste con un raso terra bloccato da Petrarca prima che il Bitonto si affacci dalle parti di Mascolo con la conclusione di Clemente Alta. Il pareggio arriva con Palazzo, dimenticato in aria di rigore dalla difesa di casa e non basta il solito Chacon per rimettere la testa avanti. Anzi, Mascolo deve prima superarsi per evitare un clamoroso autogol, poi non può nulla sul colpo di testa di Gianfreda che vale il sorpasso nero-verde. Chacon, sempre lui, ci prova dal limite, palla di un niente al lato e con una conclusione che Petrarca controlla senza affanni. Di fatto il Gravina finisce qui la sua gara perché nella ripresa, dopo il salvataggio di Mascolo su Chiaradia e un'azione confusa nell'aria di rigore ospite, i murgiani vanno in confusione. Mascolo sbaglia il rinvio e offre a Maffei il pallone per un gol da Cineteca, poi ancora Maffei si regala la doppietta personale che si gira la vittoria del Bitonto e la crisi del Gravina.